La storia che vi racconterò oggi sarà molto particolare. Non si parlerà di felicità, ma di generosità e coraggio estremo. Mentre mi trovavo nella valle dell'Unza alla ricerca di un fantomatico elisir di lunga vita, ho incontrato Kumai, un giovane studente pakistano. Dopo avergli spiegato il mio progetto, mi parla di una storia incredibile del suo paese. E stupito dal fatto che io non ne sapessi nulla, mi fa subito vedere un video. Grazie a tutti. Rami, vieni! 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 La storia dei zazzi mi aveva scosso così tanto che ho fatto subito le valigie e sono partito alla volta di Angu per incontrare la famiglia. La famiglia di questo vero eroe. Sono appena arrivato in città e la situazione mi sembra più tesa di quanto immaginassi, ma mi faccio coraggio convincendomi che andrà tutto bene. Ad accogliermi trovo il padre e il fratello dei zazzi. Mamma mia, ora l'adrenalina è alle stelle. Non ho mai fatto un'intervista del genere. Mi assalgono mille dubbi, ma decido di seguire il mio istinto e parto subito con le domande. Quando ho ascoltato la storia di Atizaz, mi sento che il mio sangue era scherzata e non si può dormire. Mi sento che ho dovuto sapere più di questa storia. Ho dovuto capire il background di questo ragazzo, che con 15 anni, potrebbe essere così bravo, così coragoso, così generoso. Potrebbe salvare tantissime lives. Come si è davvero abbia fatto? Come si è arrivato predicandoli? In questa storia poi mi sopevo a differente. La storia di Atizaz mi sono stato un figlio che ci ha già셔서, che mi sono stato un figlio dinamore. Perché avevo in questo periodo, che avevo un livello, che a vivere in questo momento, ero meno da livello. Noi sono ancora una storia di organizzare. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Un po' di quanto si ricorda di un'altra? scocciate il frattamento di sicuro dove la scuola si riuscì insegnate come so United States si traspassate i 15 minuti ho lasciato un film si trovavamo il mio potegno. contro il mio avvenimento, quando ho detto il mio vino? nassarci il mio percorso il mio incontro. ma quando ho vinto il mio ruolo, mi disse che all'onisse avvistare le mie due bambini. io ho ricordato il suo ruolo di scuola, e io campionati sempre all'incorso attuare. e il nostro corso della cittàzione non si sembrava che gineria fino ad arrivare ma non si vivete se sono piccoli non è stato oggi ma tutti i passi non è stato fatto come dice bisognito cosa vuole necessitarie quando si trovi? quando si era entrata a fare bravi hanno aumentato attraverso attraverso ora perché avevo nella In 1989, quando eravamo a Gianguna, eravamo a Gianguna. Come ti piacevano i altri studenti? Dovamo ricordare la Tizaz. La Tizaz è stata messa. La Tizaz è stata messa dalla Pakistan. La Tizaz è stata messa dalla Tizaz al mundo. Quali è la insegnatura che pensa che la Tizaz è resta nella nostra riionese? E' una messagina. E' una messagina che sta messa dalla Tizaz. Quando vuoi stacce il nostro mondo, noi non doi pensi che in questo mondo ci sono stato promonti. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Non pensavo di aver paura ma mi hanno raccontato determinate cose e sono un po' preoccupato in realtà Perché poco tempo fa hanno ricevuto una lettera di minaccia da parte dei terroristi Dicendo di non rilasciare più interviste, di non parlare più di Atizaz come un eroe Altrimenti avrebbero pagato le conseguenze Quindi siamo sempre scortati da una guardia armata L'adrenalina è bella alta Adesso siamo appena arrivati nella scuola di Atizaz E incontreremo gli studenti, mi faranno vedere l'avvenuta l'esplosione Cosa hai detto? Il ha detto che questo è un rischio di sicurezza Tutto dove dovremmo, dovremmo cercare dove vogliamo, dove andiamo Quindi è molto importante, dovremmo cercare la situazione di sicurezza Quindi dovremmo cercare l'esplosione Quindi dovremmo cercare l'esplosione E quando hanno detto che è sicuro, possiamo andare fuori? Si, lui ha detto che tutto è chiaro Puoi andare fuori In Pakistan, questa è una distrizione più dangerous Angu Questa è il posto Questo è il posto Ma perché è stato qui? È così vicino dalla scuola La scuola è lì Quando i ragazzi vengono qui Questo è il posto per andare alla scuola Ok L'esplosione Ora, la strage e adesso ci sono i miei figli che ci sono i miei figli che sono i miei figli che sono i miei figli e grazie al coraggio dei Zaz tutti questi ragazzi possono continuare a inseguire i propri sogni consapevoli di aver avuto una seconda chance è difficile parlare di felicità di fronte a una storia drammatica come questa ma non posso fare a meno di pensare a quanto conti il luogo dove la sorte ti fa nascere qui in Pakistan a 15 anni la felicità è combattere il terrore e morire da eroe e non è giusto nei paesi occidentali la felicità è sentirsi accettato dagli altri secondo le mode e non è giusto neanche questo noi però abbiamo la fortuna di poter scegliere le nostre priorità e determinare chi siamo e chi saremo come vogliamo essere ricordati quando non ci saremo più grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti